Benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo in un solo esercizio relativo sempre alla chimica di stecchiometria, reazioni redox e reagente limitante. Questo esercizio ovviamente ci recita che dobbiamo calcolare la massa di iodio ottenuta e la concentrazione residuo dell'oiono in eccesso, ottenuto ovviamente mischiando il nitrato di rame, che è il CUNO3, ad una soluzione di 0,20 molari di ioduro di potassio. Abbiamo poi la seguente reazione da bilanciare che come vediamo non è una reazione in cui dobbiamo bilanciare solo le masse e quindi applicare solo la legge di Lavoisier, ma dobbiamo bilanciare anche le cariche e quindi ovviamente se sarà necessario anche gli elettroni. Quindi questa è proprio una reazione redox. Quindi per risolvere questa nostra reazione innanzitutto dividiamo quest'ultima in due semireazioni. La prima semireazione che ci scriviamo sarà Cu2+, quindi il rame con carica 2 più lo iodio con carica meno ci dà l'ioduro di rame che è lo CuI. A questo punto la seconda semireazione sarà lo iodio con carica e darà ovviamente in questa semireazione uno iodio biatomico. Allora, guardiamo quindi questa prima semireazione. Vediamo che le cariche da questa parte sono 2, quindi più 2 per il rame, meno 1 per lo iodio e il composto, quindi il ioduro di rame, sarà ovviamente a carica 0. Come vediamo, se sommiamo più 2 meno 1 otteniamo praticamente una carica totale che è praticamente meno 1, ma la carica meno 1 non è bilanciata con la carica dei prodotti a destra che vale 0. Quindi vuol dire che ottenere la carica 0 anche sulla sinistra dal lato dei ragenti, dobbiamo praticamente aggiungere un elettrone. Quindi vuol dire che è stato ceduto un elettrone durante la reazione. Quindi questa reazione si scriverà come Cu2+, più i meno, a cui appunto aggiungiamo qui un elettrone extra e meno, che ci dà ovviamente CuI. A questo punto rifacciamo il conto delle cariche. Abbiamo 2, meno 1, meno 1, sarà 0 contro il 0 dell'olio duro di potassio, quindi le cariche sono bilanciate. Passiamo ovviamente per la legge di Lavoisier, questa reazione è bilanciata già sulle masse. Abbiamo 1 Cu, quindi un elemento di rame, ed un elemento di olio. A questo punto, da quest'altra parte, bilanciamo prima la semirazione, quindi mettendo un 2 qui al lato a sinistra dell'olio duro con la sua carica, e però vediamo che è passato l'olio duro da meno 1 a 0, questo come numero di istitazione. Quindi vuol dire che, qui possiamo dire che la carica dell'olio 1, attenzione, era 0, quindi la carica dell'olio 1 qui era 0. Mentre qui la carica dell'olio biatomico è 0, quindi vuol dire che qui è stato acquistato un elettrone. Quindi se è stato acquistato un elettrone, e a questo punto qui avremmo meno 2 come cariche, qui 0, se facciamo il bilancio delle cariche, se è stato acquistato un elettrone per ogni, ovviamente, atomo di iodio. Quindi ne abbiamo 2, quindi avremo da sommare qui più 2 e meno. Tant'è vero che se facciamo il bilancio delle cariche a destra, otterremo 0, meno 2, e quindi in finale otteniamo praticamente che le cariche a destra e a sinistra sono meno 2 e meno 2, perché 0, meno 2 fa sempre meno 2. A questo punto però dobbiamo bilanciare gli elettroni ceduti con quelli acquistati. Quindi se qui acquistiamo un elettrone, praticamente dobbiamo fare una moltiplicazione ad incrocio, come se facessimo una moltiplicazione ad incrocio, dove qui nella 2 moltiplichiamo tutta la semireazione per l'elettrone ceduto, che è praticamente per 1, perché abbiamo qui sottinteso un elettrone ceduto. E moltiplichiamo invece la prima semireazione per l'elettrone acquistato, quindi qui moltiplicheremo per 2, perché qua abbiamo un più 2 e meno. Se facciamo questo, qui otterremo praticamente 2 Cu2+, più 2 i meno, più 2 e meno, e otteniamo da questa parte 2 volte Cui. Controlliamo sempre che le cariche siano bilanciate, qui ne abbiamo 4, qua ne abbiamo meno 2, qui ne abbiamo meno 2, quindi 4 meno 2 meno 2 è 0. Da quest'altra parte ovviamente abbiamo visto che l'oione mantiene sempre carica 0. Da questa parte la reazione rimane tale e quale come la vediamo, quindi a questo punto non ci resta che sommare prodotti con prodotti e reagenti con reagenti per ottenere dunque da qui, quindi guardando la semireazione scritta in rosso con la semireazione 2 scritta in blu, sommiamo i prodotti, quindi otteniamo 2 Cu2+, poi abbiamo più 2 i meno, più 2 i meno, che sarà 4 i meno, poi abbiamo più 2 i meno, freccetta di reazione, abbiamo 2 volte Cui più i due, più un due e meno. A questo punto possiamo semplificare gli elettroni più 2 i meno, a questo punto possiamo semplificare gli elettroni più 2 e meno e più 2 e meno, per ottenere infine la reazione quindi bilanciata, che sarà 2 volte Cu2+, più 4 volte i meno, freccia di reazione, e otteniamo 2 volte Cui più i due. A questo punto vediamo che la reazione è bilanciata anche sotto forma, diciamo, per quando riguarda la legge di Lavoisier, ma è soprattutto bilanciata anche per quando riguarda le cariche, perché qui avremmo più 4, qua meno 4, carica totale, dunque 0, a sinistra l'ione A carica 0, qui Cui, i due ancora carica 0, quindi a sinistra a destra avremo ancora carica totale 0, quindi come vedete le cariche sono esattamente bilanciate, la nostra reazione bilanciata è quella che abbiamo riportato. Ma guardando quindi la nostra traccia di esercizio ci diceva che il nitrato di rame veniva fatto reagire con l'olio duro di potassio, ciò significa che in una seconda reazione potremmo scrivere che CuNO3 più Ki, ovviamente visto che CuNO3 è un sale sciolto nella soluzione liquida di Ki, otteniamo questa che vediamo in mezzo, questa scissione possiamo dire, degli elementi, che ovviamente ci danno l'olio duro di rame e ovviamente uno iodo biatomico. A questo punto dunque possiamo bilanciare anche questa a sinistra. E vediamo un pochino, se qua abbiamo 4i di iodio, qui ne abbiamo anche qui 4, allora anche da questa parte dobbiamo avere 4 di iodio. Qui abbiamo 2 di rame, 2 di rame, anche all'estrema sinistra dovremmo avere 2 di rame. Dunque abbiamo bilanciato anche gli ipotetici reagenti che ci sarebbero a valle di questa reazione. Quindi questo è molto importante perché adesso andremo a vedere chi è il reagente limitante tra l'olio duro di potassio e il nitrato di rame. Come facciamo ad individuare chi è il reagente limitante? Dobbiamo semplicemente calcolare le moli dei due reagenti e dividerlo per il coefficiente stecchiometrico che hanno loro davanti. Quindi vediamo un po' le moli di alloio duro di potassio, non ci vengono fornite, mentre di CnO3 sì. Quindi come calcoliamo le moli, quindi moli di KI? Ci viene detto che abbiamo una soluzione di 0,20 molari che sono presenti in 50 millilitri ovviamente di questa soluzione di KI. Noi sappiamo che la molarità si esprime come numero di moli, quindi del composto, quindi KI, diviso il volume totale. Questo 50 millilitri sarà il nostro volume totale e pertanto possiamo calcolare le moli di ioduro di potassio come la formula inversa facendo molarità per volume totale. Quindi la molarità sarà 0,20 molari per, ovviamente 500 millimetri va passato in litri perché qui sarà moli sul litro per la molarità, che è l'unità di misura appunto della molarità, quindi sarà 50 per 10 alla meno 3 litri. E otteniamo 1 per 10 alla meno 2 moli di ioduro di potassio. Quindi adesso abbiamo sia le moli dello ioduro di potassio sia le moli di CnO3 che sono 8 per 10 alla meno 3. Per stabilire quindi il reagente limitante dovremmo dunque fare il numero di moli di KI diviso il coefficiente stequiometrico che è 4, vediamo sull'estrema sinistra della reazione bilanciata, per ottenere dunque 1 per 10 alla meno 2 diviso 4 otteniamo come risultato che è 2,5 per 10 alla meno 3 moli. Mentre andando a calcolare NcUnO3 diviso il suo coefficiente stequiometrico all'estrema sinistra della nostra reazione che sarà 2 otteniamo 8 per 10 alla meno 3 diviso 2 sarà 4 per 10 alla meno 3. Quindi come vediamo si dice reagente limitante ovvero quella parte di reagente che si consuma tutto all'interno di una reazione quello che è presente con questo calcolo in minore quantità. Dunque quello che è presente in minore quantità tra i due con questo calcolo che abbiamo sviluppato è sicuramente lo ioduro di potassio perché presenta 2,5 per 10 alla meno 3 moli mentre Cn3 è 4 per 10 alla meno 3 moli. Dunque calcoliamo qui la massa dello iodio che ci serve quindi la massa di un elemento sappiamo che si può esprimere come numero di moli dell'elemento per la massa di unità atomica dell'elemento in questo caso dello iodio. La massa di unità atomica dello iodio possiamo ricavare un dato nodo che si ricava a partire dalla tavola periodica. Quello che ci interessa sapere in questo caso come calcolo è come calcolare appunto il numero di moli dell'iodio. Consideriamo dunque che il nostro reggente limitante è il Ki quindi consideriamo quindi guardiamo che lo ioduro di potassio ha 4 moli abbiamo 4 moli di ioduro di potassio mentre otteniamo una sola mole di iodio. A questo punto vuol dire che sono in rapporto 4 a 1 vuol dire che il numero di moli di ioduro di potassio diviso 4 saranno uguali al numero di moli dello iodio biatomico diviso 1 quindi se voglio il numero di moli dello iodio biatomico quindi dello iodio prodotto finale sarà ovviamente l'un quarto del numero di moli dell'iodio di potassio. Quindi andiamo a sostituirlo all'interno di questa formula per ottenere praticamente che la massa dello iodio biatomico sarà un quarto delle moli di Ki che abbiamo visto essere uguali alle moli dello iodio biatomico più per 2 volte la massa atomica dello iodio perché ovviamente stiamo parlando dello iodo biatomico quindi abbiamo 2 atomi di iodio. A questo punto, svolgendo i calcoli e sapendo che appunto nKi è uguale a 1 per 10 alla meno 2 moli l'abbiamo calcolato prima e ricavando dalla tavola periodica la massa di unità atomica relativa dello iodio che la massa dello iodio cercata è praticamente 0,634 g ed è proprio il risultato che ci viene fornito dal problema ed è il primo risultato che abbiamo quindi vuol dire che il procedimento che abbiamo fatto esatto, vi invito ovviamente a provare che svolgendo così gli esercizi il risultato ritorna. A questo punto non ci resta altro che calcolare la concentrazione dello ione in eccesso che è CUNO3 sappiamo che di questo ione, quindi di CUNO3 nitrato di rame abbiamo inizialmente 8 per 10 alla meno 3 moli sappiamo che CUNO3 sarà il reagente in eccesso quindi possiamo calcolare le moli guardando dunque se ci riscriviamo un momento la reazione quella a partire dall'estrema destra ovvero 2 CUNO3 più 4 volte Ki che ci dava tutto e bla 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 come vediamo il nitrato di rame è in un rapporto 2 a 4 con l'olio d'oro di potassio vuol dire che il numero di moli di CUNO3 diviso 2 è uguale al numero di moli di Ki diviso 4 quindi se voglio il numero di moli di CUNO3 dovrò fare i due quarti del numero di moli di Ki e quindi qui sarà ovviamente un mezzo ancora una volta del numero di moli di Ki che sappiamo essere ancora 1 per 10 alla meno 2 moli quindi il numero di moli di CUNO3 saranno praticamente 0.005 moli quindi una volta che abbiamo le moli dell'olione in eccesso quindi dei reagenti in eccesso queste sono quelle che ovviamente vanno consumate quindi queste sono moli che si consumano per calcolare quante moli rimangono dobbiamo fare quindi il numero di moli in eccesso sarà il numero di moli iniziali cioè quello che vedete scritto 8 per 10 alla meno 3 moli meno il numero di moli consumate cioè quelle calcolate adesso 8 per 10 alla meno 3 meno 5 per 10 alla meno 3 perché 0.0,5 moli si può scrivere come 5 per 10 alla meno 3 in notazione scientifica otteniamo un eccesso, un surplus di 3 per 10 alla meno 3 moli a questo punto conoscendo il numero di moli possiamo calcolare la concentrazione come ci richiede il problema dell'olione in eccesso scrivendo quindi molarità è uguale al numero di moli in eccesso dell'olione diviso il volume totale il volume totale del recipiente era di 50 ml quindi il volume era di 50 ml che abbiamo visto possiamo scrivere anche come 50 per 10 alla meno 3 litri se dunque sostituiamo questi valori all'interno di questa formula otteniamo come concentrazione del nitrato di rame una concentrazione pari a 6 per 10 alla meno 2 molarità quindi a questo punto andiamo a controllare il risultato e appunto eccolo lì il secondo risultato è questo vediamo che ci troviamo dunque vuol dire che l'esercizio anche questa seconda volta è stato condotto in maniera giusta come sempre vi invito a rifare l'esercizio e a provare che effettivamente il risultato sia quello che abbiamo scritto noi in video per qualsiasi dubbio non esitate a scrivere commenti e a suggerirci esercizi noi dunque ci vediamo per un prossimo video sempre relativo alla chimica perché siamo nella fase di diciamo pubblicare video di chimica non durerà molto questa pubblicazione perché come sapete passiamo di materia in materia questo è il mese dedicato alla chimica quindi per chiunque abbia problemi su questa materia si faccia avanti noi siamo qui detto questo ci vediamo ad un prossimo video ciao